3, 2, 1 Ringrazio innanzitutto i miei figli che in questa occasione, come sempre, mi hanno circondato di cure e di amore. Ringrazio i miei defensori che hanno illustrato le mie ragioni. Ringrazio tutti gli amici del popolo della libertà e della Lega che mi sono sempre stati vicini manifestandomi stima e affetto. Ringrazio di cuore tutti gli italiani che mi hanno sostenuto e che mi hanno addirittura sommerso con migliaia di messaggi di apprezzamento e di auguri. La sentenza di oggi mi conferma nell'opinione che una parte della magistratura nel nostro Paese sia diventato un soggetto irresponsabile, una variabile incontrollabile ed incontrollata che è assurda da ordine dello Stato, cioè con magistrati non eletti dal popolo ma selezionati semplicemente attraverso un concorso, come tutti i funzionari pubblici, è assurda a un vero e proprio potere dello Stato. Questo nuovo e delimitato potere dello Stato ha condizionato permanentemente la vita politica italiana dalle inchieste di Tangentopoli fino ad oggi. Dal 92 e 93 il corso della vita politica è stato letteralmente condizionato dall'azione forviante di una parte della magistratura che ha preteso di assurgere ad un ruolo di rinnovamento morale in nome di una presunta rivoluzione etica, mettendo fuori gioco con i loro leaders i cinque partiti democratici che avevano governato l'Italia per oltre mezzo secolo e che nonostante alcune ombre avevano comunque assicurato il benessere e difeso la libertà e la democrazia dalla minaccia del comunismo. Si credeva così di aver assicurato alla sinistra la presa e soprattutto il mantenimento definitivo del potere. Ma uno sconosciuto signore, sconosciuto alla politica, un certo Silvio Berlusconi scese improvvisamente in campo per contrastare il passo al partito comunista e in due mesi vinse le elezioni ottenendo il governo del paese. Da quel momento si scatenò contro di lui un'azione ininterrotta della magistratura che nel 1994 fece cadere il governo tramite un'accusa di corruzione in cui seguì una assoluta, una assoluzione con formula piena, un'azione che si sviluppò poi con oltre 50 processi di cui 41 conclusisi senza essere riusciti a raggiungere una condanna. Ma questo ormai lo sanno tutti. Invece per quanto mi riguarda ciò che è accaduto alla mia persona e solo dopo la mia decisione di occuparmi della cosa pubblica nessuno può saperlo appieno, nessuno può comprenderlo. Nessuno può comprendere la carica di vera e propria violenza che mi è stata riservata in seguito a una serie incredibile di accuse e di processi che non avevano e non hanno alcun fondamento nella realtà. Un vero e proprio accanimento giudiziario che non ha uguali nel mondo civile. E anche gli ultimi giorni sono rimasto allibito nel leggere assolute falsità sui giornali che sostengono la sinistra. Io non sono mai stato socio occulto di alcuno. Non ho ideato mai alcun sistema di frode fiscale. Nella storia Mediaset non esiste alcuna falsa fattura così come non esiste alcun fondo occulto all'estero che riguardi me e la mia famiglia. Devo dire che viviamo davvero in un paese in cui la maggior parte dei reati e dei crimini non vengono neppure perseguiti. Un paese che non sa essere giusto soprattutto verso i cittadini onesti e verso tutti coloro che come me hanno sempre compiuto il proprio dovere nel lavoro così come nella vita pubblica. Io sono fiero di aver creato con le mie sole capacità un grande gruppo imprenditoriale che ha dato lavoro a migliaia e migliaia di collaboratori avendo l'orgoglio di non avere mai mai in decenni di attività licenziato uno solo dei collaboratori delle mie aziende. Sono fiero di avere contribuito alla ricchezza dell'intero paese versando allo Stato miliardi e miliardi di euro di imposte ed offrendo con le mie televisioni non solo uno strumento di crescita per le aziende italiane ma anche una maggiore libertà e pluralità al mondo dell'informazione. quando ho deciso di occuparmi della cosa pubblica cercando di chiamare all'impegno pubblico le energie migliori della società civile ho dato un contributo anche alla modernizzazione del nostro paese e ho messo tutte le mie forze nel tentativo di realizzare una rivoluzione liberale che si è realizzata solo in parte che non si è completamente realizzata per le insuperabili resistenze dei partiti alleati ed anche perché tante sono in Italia le resistenze e gli ostacoli al cambiamento. sono anche sicuro di avere rappresentato al meglio l'Italia nel mondo facendo in modo che divenisse protagonista e non subalterna alle grandi potenze mondiali tutelando sempre i nostri interessi e la nostra dignità. In cambio di tutto ciò in cambio dell'impegno che ho profuso nel corso di quasi 20 anni a favore del mio paese giunto ormai quasi al termine della mia vita attiva ricevo in premio delle accuse e una sentenza fondata sul nulla assoluto che mi toglie addirittura la mia libertà personale e i miei diritti politici. è così che l'Italia riconosce i sacrifici e l'impegno dei suoi cittadini migliori è questa l'Italia che amiamo è questa l'Italia che vogliamo no di sicuro per queste ragioni per queste ragioni dobbiamo continuare la nostra battaglia di libertà restando in campo e chiamando con noi in campo ad interessarsi del nostro comune destino i giovani migliori e le energie migliori del mondo dell'imprenditoria delle professioni e del lavoro insieme a loro rimetteremo in campo forza Italia e chiederemo agli italiani di darci quella maggioranza che è indispensabile per modernizzare il paese per fare le riforme a partire dalla più indispensabile di tutte le riforme che è la riforma della giustizia per non essere più un paese sottoposto ad un esercizio assolutamente arbitrario del più terribile dei poteri quello di privare un cittadino della sua libertà dal male come sempre dobbiamo saper far uscire un bene che i miei più di 50 processi e questa sentenza facciano aprire gli occhi a quegli italiani che sino ad ora non sono stati consapevoli della realtà del paese ed hanno sprecato il loro voto addirittura non hanno votato tutti insieme se sapremo davvero essere uniti se sapremo davvero stare insieme recupereremo la vera libertà per noi e per i nostri figli viva l'Italia viva forza Italia l'Italia